salve raga io e roma 1 a 1 vabbè poi i rigori lasciamo perdere i rigori i rigori vabbè sentite un po' una cosa quello che ho detto dalla partita lo sentirete sul canale smagic area max iscrivetevi segnate e ascoltate quello che dico i rigori io cambierei le regole e farei un altro sistema però per saperlo devi passare da là ciao raga